In via Nuova di Corva, a sud di Pordenone, si sono conclusi i lavori finalizzati a riorganizzare la viabilità per garantire maggior sicurezza su questa via di accesso alla città. L'assessore comunale alla viabilità, Bruno Zille. Questo è uno degli interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine. Siamo appunto in via Nuova di Corva, luogo dove c'è un'alta incidentalità, ma soprattutto si tratta anche di mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti, in particolar modo i ragazzi delle scuole che attraversano questa importante arteria. Sono stati fatti degli interventi di moderazione del traffico e di messa in sicurezza del passaggio pedonale, nonché sono state fatte delle operazioni per quanto riguarda la moderazione del traffico, soprattutto in entrata in città, dato appunto l'incidentalità che in questo luogo si verificava. Questo è uno dei primi interventi che realizziamo per quanto riguarda la messa in sicurezza. Ne seguiranno altri, soprattutto con la prossima approvazione del piano della mobilità sostenibile, dove prevediamo di dare priorità a tutta una serie di interventi proprio per fluidificare il traffico. Parallellamente interverremo anche sul ring, proprio perché su quest'asse dovremmo cercare di ridurre quello che è l'impatto delle auto e quindi ridurre il traffico e nel contempo fluidificarlo e metterlo in sicurezza. Questi sono in sintesi alcuni dei primi interventi che l'amministrazione comunale intende portare avanti con il nuovo piano della mobilità sostenibile.